Voglia di rivalza, orgoglio, coraggio, ambizione. Gli ingredienti sono i soliti, ma le dosi quando si parla di derby aumentano verticinosamente. Amici di Milan TV, un saluto da parte di Luca Fazzini e benvenuti al centro sportivo Vismara Puma House of Football. È tutto pronto per Milan Inter, ventitresima giornata del campionato di Primavera 1. Possesso palla per l'Inter, qua circa un 2 contro 1 con Kamatè sopra la posizione di Haidu. Kamatè viene in mezzo all'area di rigore, Kamatè! C'è subito il gol dell'Inter. Dopo due minuti e mezzo il vantaggio nero-azzurro con Kamatè. Palla di là per Quieto, Quieto in trenare, Quieto col mancino, Quieto, due dribbling, ancora Quieto il tiro. La grande parata di Raverpa, palla che rimane lì, allontana Stalmak, ancora pericolosa l'Inter con l'azione personale di Quieto. Salah allarga per Baccune, tre rossonieri in mezzo all'area di rigore. Cross di Baccune, l'uscita di Raimondi, poi arriva Stalmak, mette giù Stalmak, ancora Stalmak, l'appoggio per Sia! Pallo ribattuto, Sia! Ancora la difesa dell'Inter che si salva, sembra stregata. Poi Camarda, Camarda in area di rigore, Camarda l'appoggio, Sia, 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 perde il contatto col pallone. Poi in mezzo a tre fa fatica, allontana la difesa nero-azzurro ma ancora Milano in attacco. Intanto Camarda, Camarda, Camarda! Il pareggio del Milan con il suo bomber, Francesco Cavarda! Quando meno te lo aspetti! Uno a uno Milan, dodicesimo, gol stagionale per Francesco Camarda. Il primo in un derby primavera, il più giovane in campo. Gli applausi scroscianti da parte del centro sportivo Vismara. Tre contro tre, si distende il Milan, Camarda, largo Scotti. E c'è anche Sia, Camarda gli data il passaggio a Scotti. Scotti in area di rigore, Scotti! La parata di Raimondi e sfuma l'occasione per i rossoneri. Lo stacco per Zeroli, Zeroli col mancino, la parata, poi palla che rimane lì! E la chiusura di Raimondi, ghiottissima occasione rossonera. Sia la sovrapposizione di Bartesaghi, sia la palla lunga, Zeroli, la sponda. Palla che rimane lì, Zeroli mette giù, vicino c'è Magni, ecco Magni. Magni, palla larga, Zeroli, Zeroli, il cross, Magni! La girata di Vittorio Magni, blocca Raimondi. Raverre, largo per Bartesaghi. Ma non c'è più tempo, con una decina di secondi d'anticipo, il direttore di gara, Virgilio, decreta la fine del derby di Milano. È 1-1 al centro sportivo Vismara Pum House of Football. È tutto da parte di Luca Fazzini. Un ringraziamento per essere stati con noi. Appuntamento su Minantv. Un ringraziamento per essere stati con noi.